Ateneo e Asso Castelli arrivano a una collaborazione per mettere a valore il patrimonio architettonico salentino costituito da palazzi d'epoca, masseria, biglie storiche e castelli. L'idea è quella di produrre cultura, ricchezza e nuove opportunità professionali per il territorio puntando sul recupero delle dimore storiche che popolano il paesaggio locale. L'intesa è divenuta operativa grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra l'Università del Salento e Asso Castelli associazione della proprietà di Castelli, Palazzi e Ville d'Italia. Alla base di questo accordo vi è la volontà di creare un sistema integrato di attività volto sia a sopportare i proprietari e gestori di questo patrimonio ma anche per creare le condizioni territoriali perché questo possa fungere da volano di sviluppo delle economie locali. I firmatari sono il Rettore Fabio Pollice dell'Università del Salento e il Presidente nazionale di Asso Castelli Iva drogo inglese.